Si configura come non una costruzione che hanno fatto i singoli proprietari per la propria parte, ma è un'opera pubblica. E quanto opera pubblica, quindi come una strada, e tra l'altro graficamente rappresentata, ripeto, come una strada, non è usucapibile. Le carte e i documenti conservati nell'archivio storico del comune di Lavagna parlano chiaro. Il Sejun, l'argine fatto costruire da Napoleone lungo la sponda dell'Entella, è già un bene pubblico, costruito a suo tempo con denaro pubblico e come tale deve essere tutelato e oggetto di vincolo culturale paesistico. E' un'ulteriore ed importante carta, quella che Italia Nostra aggiunge, al mazzo già in possesso della soprintendenza nella partita che sta decidendo la posizione del vincolo monumentale dell'intera area della Piana dell'Entella. Nel passaggio tra il Catasto Napoleonico, dove l'opera viene identificata come dig al pari delle strade già tracciate, e quello moderno, nel 1939 avviene l'errore della rappresentazione, che però non fa venire meno la natura dell'opera. Questo non toglie la natura della proprietà. Il fatto che non sia rappresentato nel 1939, non va a inficiare la proprietà acquisita da parte dell'ente pubblico come opera pubblica per una costruzione per questo tipo di diga. A questo punto, in attesa della pronuncia della soprintendenza, l'associazione ha inviato un'altra diffida alla città metropolitana di Genova per bloccare i lavori del cantiere relativo agli interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto, ribadendo l'interesse storico-culturale dell'intero manufatto. In sostanza sarebbero altre le procedure per l'autorizzazione dell'opera. Si apre quindi un problema sulla valutazione degli espropri, cioè se questo è già parte pubblica, certo, vuol dire che devi ripensare quello che è l'esproprio a questo punto. Quindi anche l'iter stesso del progetto deve essere adeguato, deve essere ripensato. In quanto opera pubblica, ripeto, è già soggetto a verifica di vincolo a prescindere, è già l'articolo 12 del codice beni culturali e questo quindi facilita la soprintendenza, ribadisco, nell'emissione di quello che è il vincolo.